ciao donne sono qui e eccolo qui allora propongo pantalone leggings in ecopelle sofia dolce vita bello rosso invernale misto di fibre ok quindi c'è anche un 20 per cento di lana datemi un consiglio perché poi faccio un abbinamento tutto per farvi vedere c'è anche il dolce vita rosso che comunque un bel rosso in più vi invito a venire in negozio perché vedete meglio il colore il vero colore sui telefonini non si vede è bello tutto però poi davvero cambia ci sono due taglie la media che veste un 48 50 comodo e la l che veste un 52 comodo ok e sopra ci metto questo bellissimo e ultimo cardigan lungo meraviglioso stupendo stupendo questi cuori pesante ok guardate che bello vi piace ecco quindi abbiamo un abbinamento favoloso vi avvicino il telefono dolce vita col collo bello alto se poi il collo vi è troppo alto ve lo potete anche girare un'altra volta quindi bordatura è uguale al dolce vita e anche i polsini che adesso vi tiro sulla manica vediamo di qua se meglio eccola qua il polsino con la stessa bordatura mi piace farvi osservarlo questo cappotto qui che veramente bello questi cuori vedete poi immaginatelo addosso quando camminate vi atteggiate in giro per la città per dove andate quindi bello 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 ci ho girato anche il bordo così con il bianco il nero c'è richiamo e così fa anche più effetto no ecco adesso ve lo mostro anche col dolce vita rosso mi dite voi quale vi piace meglio ecco con il rosso ma in effetti mi piace di più buon rosso la borsetta rossa la scarpetta rossa a rosso io otteneremo il rosso quindi due pezzi una m una l rosso e una m una l bianco unico pezzo e o questi due leggi e questo da due pixel e anche la triple xl arriviamo a vestire da un 52 in su un 56 comodo delle delle capelli adesso vi faccio un altro piccolo abbinamento perché per le amanti perché ovvio so lo so che non tutti vogliono dolce vita però accontento anche per quelle che vogliono lo scollo di nero adesso ve lo mostro subito così vedete l'abbinamento ebbene ragazze anche il nero il suo fascino scollo avi nero meraviglioso due pezzi rimasto una doppia xl e una media firmato sofia curvi fatelo regalare per natale visto che ci sono le promozioni chiamiamolo break day va bene chiamate lo sconto di svenditi chiamate no dai promozioni quindi sono promozioni veramente buone vi aspetto qui a santa giustina in colle oggi fino al 19 30 e domani mattina ciao belle vi aspetto messo in droppa vi aspetto il bello della diretta